Si chiama Summer Asia Export, un'iniziativa che si terrà dal lunedì 22 agosto a sabato 27 a Gela. Cinque giorni intensi che vedranno la partecipazione di numerosi sportivi. Sono nuove le associazioni che hanno aderito, tra cui la Gymnastic Club di Walter Miciche e la Decathlon. Si punterà alla valorizzazione dello sport a 360 gradi. È una grande esposizione sportiva, dove le associazioni sportive direttandistiche mostraranno se stesse, le proprie attività, e gli atleti plurimedagliati che hanno meritamente fatto grandi successi all'interno del 2016. Tant'è vero che all'interno di questa manifestazione andremo proprio a consegnare loro degli attestati anche di merito. Questa manifestazione è anche un messaggio molto forte che vogliamo dare alla città di Gela e non solo, e a tutto il territorio siciliano, un messaggio di unione. Tant'è vero che le associazioni di propria spontanea volontà si sono unite tra di loro, nonostante siano categorie diverse tra di loro, tipologie diverse, ma si sono unite per un unico obiettivo, ovvero quello che è il motto che abbiamo utilizzato è uniti per lo sport. Perché tramite lo sport possiamo dare i giusti messaggi ai nostri giovani, e soprattutto poi questi giovani che potranno diventare degli adulti sani. Ringraziamo questa bellissima iniziativa dove vedrà una settimana di sport, dove tutte le associazioni sportive gelesi e non solo si uniranno. Questo dà la possibilità ai bagnanti, o tutti i presenti, di poter provare le varie specialità sportive. Quindi un'ottima occasione per avvicinarsi al proprio sport. Ci siamo ugualizzati per poter portare lo sport vero nei lidi, in pubblico, in modo tale che più gente possibile possa conoscere l'attività fisica. Devo dire che dopo tanti anni io qui vedo Gela un grande cambiamento, gente che nel proprio DNA ha l'attività motore e l'attività fisica dentro. Quindi vedo correre gente a lungo mare, vedo fare fitness, vedo fare tante cose che non vedevo dieci anni fa. Ma peccato che non ci si accorga di queste cose e che nessuno prenda la palla in balzo per poter in qualche modo aiutare questa gente che vuole di per sé fare attività sportiva e rendergli le cose un po' più agevoli, un po' più comode. Noi della SNUP, assieme a tutti quelli che stiamo partecipando, generalmente siamo quelli che aderiamo un po' a tutte le iniziative. Devo fare un complimento a Salvatore Spinello, che in rappresentanza dell'Asia ha organizzato questa bella manifestazione, nella quale certamente i cittadini in questo momento, diciamo coloro che frequentano i lidi della nostra città, usufruiranno gratuitamente di un servizio che altrettanto gratuitamente le associazioni sportive stanno dando. Per noi è un modo per portare all'esterno delle palestre le nostre attività e per farle conoscere, per i cittadini ingelesi sarà magari un modo di avvicinarsi allo sport. Noi ci proponiamo di attivare il Pony Games, sono dei giochi con i poni attraverso i quali appunto i bambini riescono ad avvicinarsi al mondo dell'equitazione. Cercheremo di coinvolgere anche gli adulti con dei premi e anche dei pacchetti promozionali per quanto riguarda l'equitazione. Speriamo che sarete molti.